ci sei? sa che Instagram non lo tiene non lo supporta no no, allora chiudiamola di qua salutiamo i miei amici di Instagram lo recupereremo facciamo una cosa sola esatto avevo iniziato a dare un po' una spiegazione di perché questo incontro di questa intervista perché oggi viviamo la casa 24 ore su 24 la viviamo in un modo in cui non siamo più abituati a viverla tra lo smart working per chi deve lavorare a casa tra avere i bambini a casa perché non sono più a scuola bambini o adolescenti e anche il proprio benessere psicofisico perché eravamo tutti abituati a hobby come sia palestra attività sportiva, uscita, amici eccetera e adesso siamo rinchiusi tra quattro mura ne parliamo oggi con Mitch Turri, coach grazie intanto di essere qui con noi intanto ti chiedo una piccola presentazione chi sei e cosa fai e perché ok allora ciao Alan intanto grazie a te che mi hai chiesto questa intervista io sono Mitch Turri faccio il coach life coach cosa fa un life coach? un life coach è un ricercatore collaudatore e divulgatore di strategie per raggiungere i risultati gli obiettivi o per la soluzione di qualche problema ecco direi che in questo momento nelle nostre case di problemi ce ne sono abbastanza quindi l'intervento di un life coach è molto importante parleremo di casa e casa quindi è una casa che ha fatto la figlia di un mio amico molto carina chiamata addirittura la casa della felicità molto bello molto bello quel messaggio anche perché finalmente finalmente ci siamo accorti di avere una casa vero verissimo per tanti qualcuno sarà un po' indeciso anche che dice ma è casa mia o cioè sono sicuro di averla comprata l'ho comprata io questa casa perché magari a qualcuna è troppo piccola per qualcuna è troppo grande e quindi in questo periodo si decideranno tante cose si anche dai punti di vista familiari perché purtroppo abbiamo già avuto alcune richieste perché questa vicinanza avrà i suoi diciamo i suoi strascichi avrà le sue qualcuno trarrà certe conclusioni ecco esattamente come per la casa anche per la famiglia eh sì a un certo punto magari si accorge che quella che è in casa è uno sconosciuto o una sconosciuta dice ma chi è questa chi è? verissimo verissimo io ti chiedo guarda una cosa che mi incuriosisce molto personalmente ma credo che incuriosisca tutti è cioè quali sono i consigli che puoi dare in questo momento a chi è costretto a stare in casa e a dover gestire come dicevamo prima o la famiglia quindi le persone attorno a lui ma oppure anche chi vive da solo per il proprio equilibrio personale è interessante questa domanda parliamo di equilibrio personale sì equilibrio personale secondo te Alan parliamo di equilibrio personale perché dipende anche che cosa intendiamo per equilibrio personale beh equilibrio personale parliamo dell'equilibrio anche forse prima avevamo un ritmo lavorativo casalingo prima forse non ci siamo accorti che non l'avevamo proprio avevamo un ritmo pam 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 casa lavoro lavoro casa casa lavoro ti tiri ti ho perso e abbiamo una collezione ballerina non avevamo il tempo non avevamo il tempo ti stiamo perdendo si sente male non ti sentiamo più e sei bloccato peccato perché invece ecco sei tornato abbiamo la linea che non ci aiuti in questo momento mi senti michel ok ci sono eccoci qua siamo tornati siamo tornati in diretta ce l'abbiamo fatta ma è il bello anche delle dirette essere qui e studiare assieme come risolvere i problemi visto che un coach ci fa questo aiuta a risolvere i problemi esatto spero di averlo risolto questa volta dai speriamo speriamo ce lo auguriamo tutti quando ci siamo interrotti parlavamo del benessere psicofisico dell'equilibrio personale e tu stavi sviscerando questa situazione molto interessante interessante perché siamo in un momento che abbiamo l'opportunità di riscoprire il nostro equilibrio personale di riscoprire un po' le nostre passioni i nostri valori il nostro corpo la nostra mente abbiamo un'opportunità enorme che forse non so se ce l'avremo ancora poi più avanti nel tempo è vero è vero assolutamente quali sono i consigli adesso c'è chi ha c'è chi scopre adesso proprio c'è chi scopre i benefici magari di fare ginnastica chi riscopre il senso di stare in famiglia chi ritrova la passione per la cucina chi inizia a leggere dei libri che non leggeva da tanti anni che si era comprato anni fa in questo momento ci sono varie categorie di persone a casa ci sono le persone da sole ci sono le persone con degli anziani in casa ci sono le persone con un figlio piccolo e è ovvio che ognuno deve trovare il proprio spazio i propri tempi io parterei comunque dalle cose da evitare che cosa evitare in questo momento ecco allora ho esposto un po' al video se mi si vede un po' meglio che cosa evitare in questo momento io direi le prime regole che che sono evitare di magari di senti Alan o siamo spariti no ci siamo ci sei bloccato di nuovo proprio si vede che è un momento che la connessione ecco ti 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 vediamo a scatto e ti sentiamo così così però riproviamo abbiamo perso peccato perché stava riaprendo una situazione un concetto molto interessante che era quello che dobbiamo evitare in casa e effettivamente più che pensare su cosa dobbiamo fare è importante togliere le cose da non fare vediamo un attimino se ci riusciamo intanto ciao Loris buongiorno a te grazie di esserti collegato è una situazione complicata oggi oggi va così ma recupereremo ciao a tutti intanto che vi state collegando in questa diretta deve essere la nostra prima intervista siamo in attesa di ripristinare il collegamento con Michi Turri coach un life coach di Faenza per parlare del nostro benessere psicofisico oggi in quarantena cioè chiusi nelle nostre case con le nostre famiglie o con persone che ritenevamo familiari ma che forse ci rendiamo conto che non sono le persone giuste stiamo riscoprendo la casa come bene primario come centro della nostra vita che non eravamo più abituati e stavamo parlando con Michi Turri del discorso del benessere psicofisico inteso non tanto come routine cioè la nostra abitudine quello che eravamo abituati a fare e quindi era il nostro rituale quanto come vivere questi momenti perché tante volte scambiamo la routine quotidiana con benessere invece non è così e allora se sì purtroppo in questi giorni internet è un po' sovraccaricato e adesso rivediamo ecco io ti rivedo perfetto e noi ti rivediamo tutti cosa non cerchiamo di cerchiamo di rimanere connessi esatto esatto è questo il segreto andiamo veloci spediti e cerchiamo di rimanere connessi a te la parola cosa non fare in casa cosa non fare in casa non non mangiare non dormire sul divano questa è una regola fondamentale non invertire il giorno con la notte ho sentito degli amici che guardano la televisione fino alle 6 della mattina poi si vanno a letto si alzano alle 2 del pomeriggio e alle 9 e mezza di sera sono già davanti alla televisione cioè non è così che si che si fa per mantenere una lucidità mentale e fisica e poi un'altra cosa è lasciare in disordine è fondamentale non lasciamo in disordine quello che distruggiamo mettiamo a posto immediatamente e la quarta e ultima cosa è non ascoltare troppe notizie troppo c'è troppa roba soprattutto sui social ci confonderebbe ci distruggerebbe la mente proprio non riusciamo a essere in equilibrio con una sorta di troppe notizie tra social televisioni amicizie ti telefona il tuo amico e ti dice sai cosa è successo ti mandano un mucchio di video basta ciughiamo le regole che ci hanno dato quelle che sono ufficiali e punto basta questo questi sono ottimi consigli perché probabilmente la prima cosa che tutti hanno fatto hanno vissuto queste giornate come se fossero delle domeniche che la domenica è una alla settimana quindi diciamo che può essere un vizio ma tutti i giorni assolutamente un po' hai già risposto anche alla mia seconda domanda cioè la mia domanda mi ha curiosità come sfruttare cioè come organizzare lo smart working cioè lavorare da casa un po' l'hai già detto mantenere gli orari l'ordine nello smart working soprattutto è importante la prima regola per lo smart working è avere una bottiglietta d'acqua accanto al tavolo è la prima regola perché dopo mezz'ora che siamo di fronte al computer il cervello inizia a fumare e le idee iniziano a disperdersi quindi è fondamentale che noi sciacquiamo un po' questo nostro cervello con un po' d'acqua fresca è fondamentale l'acqua fresca sempre questa è la prima regola e la seconda regola per lo smart working è naturale che bisogna crearsi un proprio spazio di lavoro naturalmente lontano dagli altri componenti della famiglia perché è importante non essere disturbati durante le ore quelle che si è deciso di lavorare è fondamentale terza regola è darsi degli orari cioè il mattino lavoro due ore tre ore pomeriggio due ore tre ore che siano quelle che ci trasporta alla quarta regola non fatevi prendere dal lavoro non fate né un'ora in più né un'ora in meno perché soprattutto se avete famiglia dovete dedicarvi adesso che proprio siete in famiglia finalmente dedicatevi a quella quindi una volta finito l'orario di lavoro staccate e andate dalla vostra famiglia quinta regola fate delle pause almeno di dieci minuti ogni ora ora e mezza andate fuori vi sgranchite respirate non pensate fondamentale e la sesta regola è normalmente non mangiate non mangiate mentre lavorate lo smart working non mangiate e state lontani dalla cucina non fate lo smart working in cucina ecco questa è la sesta e l'ultima regola il frigorifero a distanza insomma ecco anche la distanza chiudetelo state lontani lontani dalla cucina radicalmente io ti chiedo un consiglio per chi perché abbiamo parlato adesso di chi vive in famiglia quindi mantenere tempi per la famiglia tempi per il lavoro ma chi vive da solo in questo momento cioè chi magari non dico soffrisse di solitudine perché non è così ma era abituato a vedere sì il luogo di lavoro e gli hobby come una una fuga diciamo un modo di contattare la gente adesso non può più ecco che consigli puoi dare per chi è a casa da solo sicuramente il consiglio che posso dare è di avere una di crearsi una routine una routine casalinga che non deve essere per forza una routine produttiva anche perché produrre sappiamo tutte le parole che influenzano sui nostri pensieri noi leghiamo il produrre al guadagno e in casa adesso se noi facciamo qualcosa non guadagniamo niente quindi produrre ci potrebbe mettere ansia e quindi potremmo cambiarla con una routine quotidiana favorevole oppure fruttuosa vantaggiosa positiva energica motivante basta che sia una routine che è la prima regola la prima regola quindi sarà costruirsi una routine ad esempio al mattino quando vi alzate sicuramente vi dovete alzare prima le nove possibilmente aprite la porta date l'aria alla camera e fate il letto questa è la prima e semplice regola l'importante è che mettete a posto dove avete distrutto dovete rimettere a posto e questa è una prima regola poi per chi ha figli e anziani si deve occupare di loro sicuramente poi si può occupare di se stessi finalmente devono trovarsi un luogo adatto silenzioso per prendersi quei minuti per loro ad esempio potrebbero fare una meditazione per chi non sa fare una meditazione può stare cinque minuti con una musica calma tranquilla fa tre respiri rilassa i muscoli e svuota i pensieri bastano cinque minuti dopo questi cinque minuti dobbiamo attivare il nostro corpo quindi ci basta quindici minuti o venti che siano di ginnastica o ginnastica o anche stretching yoga chi fa yoga qualsiasi cosa per riattivare il nostro corpo è fondamentale mantenere corpo e mente svegli e vigili per farci venire nuove idee poi dopo cosa possiamo fare possiamo dedicarci alla lettura quei libri che non leggiamo da tempo e se non abbiamo dei libri da leggere andiamo su Amazon e ci prendiamo dei Kindle quello che volete si fa presto non è che basta un po' di volontà che si fa tutto e poi io propongo anche di fare delle ricerche su internet magari sul vostro lavoro oppure su quali lavori andranno nel futuro ci sono tanti che ne parlano di altre soluzioni di altre possibilità sicuramente che si stanno aprendo però noi dobbiamo essere curiosi se non siamo curiosi ci spegniamo piano piano la curiosità è la benzina della vita assolutamente poi arriva il pranzo e il pranzo bisogna cucinarlo condividendo se avete la famiglia è fondamentale sempre condividere se non condividono il fatto che non gli piace cucinare magari fategli lavare i piatti e pulire la cucina questo potrebbe essere una cosa buona no? sempre condividere è fondamentale se si sta in famiglia si crea quel rapport che magari prima era sparito perché ognuno era era per i fatti suoi ognuno era a lavorare i bambini erano a scuola anche se adesso è molto impegnativo star dietro anche i bambini che vanno a scuola perché comunque vanno a scuola tramite internet quindi il genitore che non è pratico deve mettersi lì a scaricare tutti i moduli a metterli in diretta insomma è pratica è una cosa nuova che anche alla fine è simpatica se la prendi simpaticamente poi il pomeriggio ci si può anche riposare un po' sul divano se avete Netflix guardatevi delle serie che sono stupende non fatevi prendere troppo perché vi mangiano le serie di Netflix è una cosa è una cosa incredibile e comunque non più di un paio d'ore e dopo un paio d'ore che vi siete riposati potete ricominciare con la lettura e con la ricerca e vedete che piano piano si va a dritti a cena e la cena cercate di essere creativi cioè create qualcosa di nuovo andate a vedere ricette modificatele condividetele fatevi una videochiamata con te cosa prepari questa sera insomma la vita a casa non è così noiosa non è così non è così ferma se uno sa come muoversi non è così ferma e ci sono tante opportunità da prendere io ad esempio adesso prima ho approfittato che mi sono accordo di avere una tavernetta a casa che era una vita che non la vedevo adesso ci sto molto spesso e sto prendendo lezioni di pianoforte a distanza molto carine faccio tre quarti d'ora di lezione mi diverto e sto un po' lì di sotto finalmente ho la tavernetta anche voi spero che vi accorgiate di avere una casa e che la casa è fatta di stanze ci sono varie stanze non c'è solo la camera da letto o la cucina o la sala ci sono anche altre stanze se ne avete se non ne avete e ne sentite la mancanza significa che avete bisogno di una casa più grande e per avere una casa più grande bisogna andare da un professionista che in questo caso l'abbiamo qui davanti che è Alan sicuramente è stato esplicito abbastanza è una situazione che cambierà la prospettiva e la visione delle case degli ambienti in cui stiamo c'è chi si accorgerà di avere esigenze diverse da quelle che soddisfa ora con la casa magari l'ha acquistata con un certo criterio una scelta ma si è reso conto in queste giornate che non sono i veri valori della casa a cui tiene ma è una scelta di comodo insomma magari ha altre tipologie intanto ti ringrazio che adesso ci siamo infilati come situazione e si è nata bene dai dopo un po' di consigli le hai dati anzi un bel po' di consigli anche molto interessanti soprattutto per quanto riguarda mantenere un rituale mantenersi attivi mentalmente e psicologicamente che è molto importante oggi non spegnersi e non farsi demoralizzare basta da quello che ci passa dappertutto insomma ecco perché è importante rimanere attivi perché comunque questa cosa prima o poi passerà e quando passerà dovremmo rimboccarsi le maniche e ritirarsi su tutti ti chiedo un'ultima cosa prima hai parlato della videochiamata alle persone care eccetera ecco quanto è importante in questo momento anzi quanti rapporti sono più saldati in questo momento prima eravamo abituati a dire sì ci sentiamo poi adesso ci vediamo invece adesso sento anche tante persone che questa cosa ce l'hanno le videochiamate di gruppo serate intere a chiacchierare come se si fosse a un bar insomma a un locale eccetera o a cena sì 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 infatti si organizzano aperitivi proprio balli discoteche una roba che fa morire da ridere poi alla fine sì si stanno come dicevo prima si stanno si stanno riscoprendo le cose come dicevo si riscopre la passione per la cucina la passione per la lettura si riscopre il proprio corpo il proprio fisico i propri valori e si riscoprono anche le proprie amicizie quelle che non coltivavamo più perché poi in sostanza il tempo non ce l'avevamo più cioè qual è il più grande desiderio delle persone prima del coronavirus qual era avere più tempo poi non dico che sia stato giusto che è arrivata questa mazzata tra virgolette perché anche io sono imprenditore e sto subendo le conseguenze però se era necessaria facciamola passare perché comunque passiamola il meglio possibile comunque noi il nostro bisogno più grande è quello di desiderio più grande è quello di avere più tempo ma più tempo per fare cosa e questa è la domanda fondamentale che cosa vuoi farne del tempo che poi hai in abbondanza vero vero benissimo il tempo in abbondanza ci obbliga a stare con noi stessi io approfitterei per per darvi anche due idee su che cosa leggere ad esempio potreste leggere un libro molto semplice che avevo consigliato anche a una mia amica che poi ha fatto e faccio anch'io e che è questo si vede il magico potere del riordino lo scrivo di 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 scrivilo magico potere del riordino è un metodo giapponese che trasforma i vostri spazi perché è fondamentale fare spazio in questo momento nella propria vita se avete gli armadi pieni di robe che non portate più pantaloni gonne camice svuotate e regalate perché se noi facciamo spazio nell'armadio facciamo spazio anche nella nostra mente e cosa serve lo spazio nella nostra mente per far entrare nuove idee non nuove camice o nuovi pantaloni ok meno roba abbiamo e più idee ci vengono è fondamentale questa cosa e questo è il momento per volevo aggiungere volevo aggiungere anche un altro libro che potete leggere in questo momento è l'arte di riuscire di michelle turri di alto pubblico giustamente è un libro che parla di convinzioni come uscire vivi dal labirinto delle proprie convinzioni quindi se noi siamo convinti che è giusto è tutto giusto quello che pensiamo che diciamo noi questo libro vi potrebbe aiutare e a farvi capire che forse non è questione di giusto sbagliato ma è questione di funzionale non funzionale cioè se questa cosa non funziona più ma per te è giusta è giusto anche cambiare perché non puoi continuare a fare la stessa cosa solo perché a te è giusto sembra giusta per te e poi vorrei aggiungere anche posso aggiungere mi dispiace aggiungo altre altre due cose ho letto un articolo sul 24 ore che in Cina stanno già facendo il revenge spending sai cosa significa? sì lo spendere per vendetta esatto le persone stanno uscendo piano piano da questa crisi e stanno hanno accumulato una gran voglia di viaggiare una gran voglia di mangiare una gran voglia di festeggiare e una gran voglia di fare shopping io credo che l'economia prenda una grande lezione e una grande botta alla fine questo blocco di questa economia ma penso che quando si ripartirà si ripartirà ai 200 all'ora probabilmente anche se le cose spero e penso che cambino soprattutto sul clima anche sulla nostra io sono molto fissato con la psicologia e anche sul nostro pensiero sul nostro condividere le cose sulla nostra società adesso è un momento fondamentale per chi non può lavorare sul proprio business è indicato in questo momento lavorare sulla propria psicologia sulla propria mente se siete negativi non siete più creativi quindi dovete cambiare il vostro modo di essere assolutamente e mi fermo basta posso dire che lavorare su se stessi sulla propria psicologia forse è il primo business perché il business siamo noi come persone prima di tutto perché siamo noi che lo creiamo se noi siamo focalizzati e centrati creiamo qualcosa se non lo siamo difficilmente quello che creiamo potrà avere un seguito o uno sviluppo esatto proprio così tutto ciò tutto ciò che pensiamo lo creiamo nel bene e nel male ricordiamocelo questa cosa quindi cerchiamo di pensare più bene che male assolutamente in maniera da uscirne più felici arricchiti spiritualmente mentalmente e più felici perché vedremo una bella luce alla fine sicuramente sì le cose saranno diverse saranno diverse sotto tanti aspetti perché tutta quella velocità che eravamo abituati prima ci ha fatto capire in fondo che abbiamo lasciato qualcosa indietro ma qualcosa di noi qualcosa dentro di noi è rimasto indietro adesso fermandoci quello che è rimasto indietro sta arrivando e ci dice scusa dove stavi andando ci stavamo correndo dietro da soli noi corriamo in avanti per ricercare la felicità mentre la felicità è dietro che ci dice mi aspetti è vero è vero assolutamente bene Michi io ti ringrazio innanzitutto di no grazie a te di aver condiviso con noi questi suggerimenti e queste perle e questi consigli è stato bello anche così anche con la connessione difficoltosa ci ha dato proprio la prova che i problemi ci sono bisogna semplicemente affrontarli e risolverli e poi si va avanti quindi è stata proprio una dimostrazione indiretta di cosa significa avere un problema e affrontarlo e risolverlo e trovare la soluzione che è fondamentale esatto e se uno ti vuole cercare c'è una cosa da dire c'è una cosa da dire che c'è sempre una soluzione sempre assolutamente allora se uno se uno mi vuole cercare mi trova nella pagina Mitch Turri sono sia su Instagram che su Facebook basta che mi invii un messaggio o anche una chiamata c'è anche il mio numero di telefono e lì può vedere che io solitamente in Facebook e in Instagram faccio dei post faccio dei video magari sponsorizzo non a pagamento non mi paga nessuno però dei libri faccio vedere dei libri che io ho letto e che secondo me sono interessanti e dovrebbero leggere tutti e adesso mi sto avvicinando molto 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 alla psicologia se volete vedere una bella serie su Netflix adesso sulla psicologia è un po' forte però potete guardarvi Freud è stupenda è stupenda ottimo consiglio anche questo bene amici ancora grazie grazie mille della tua disponibilità e ci rincontreremo presto di persona quando passerà tutto questo e sarà un piacere potersi stringere la mano e vedersi direttamente intanto io ne approfitto e saluto tutti saluto le persone che si sono con me che ci hanno guardato adesso non sono riuscito a salutare tutti ma a mano visto che siete in tanti ancora grazie e alla prossima sono tanti che hanno avuto pazienza hanno avuto pazienza hanno avuto pazienza hanno avuto pazienza grazie allora saluto anch'io e poi mi raccomando teniamoci attivi corpo mente spirito tutto quello che volete abbiamo l'opportunità e noi sprechiamola seguiamo le regole attendiamoci a quello che ci dicono e quando è l'ora di venire fuori veniamo fuori più grintosi e più forti di prima sicuramente direi che con queste belle parole non possiamo che chiudere e lasciarsi questo pensiero in testa ciao a tutti grazie ciao Alan ciao ciao ciao